Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come avete visto in copertina Antonio Conte fa esplodere i fegati degli interisti e solo per questo dovrebbero riportarlo immediatamente a Torino immediatamente solo perché è bastato un post sui social nemmeno suoi del fratello che poi naturalmente è stato proprio Antonio Conte a dirgli al fratello posta queste fotografie qua poi le andiamo a vedere, andiamo a parlare di tutto quello che è successo ma soprattutto andiamo ad ascoltare uno dei rappresentanti dei prescritti uno dei YouTube che non ha bisogno del naso rosso per sembrare un pagliaccio andiamo ad ascoltare le sue parole perché i fegati esplodono e come avete visto in copertina la pomatina per il sederino ce l'hanno già da anni e sono rimasti gli ultimi tubetti e se vedete è consumato nonostante quest'anno gli sia andato tutto bene il tubetto di Bruciacool è consumato lo ha utilizzato anche quest'anno, andiamo a sentire che cosa dice ma prima come sempre io vi invito a mettere un bel like a condividere questo video in tutte le vostre baccheche perché quello che ha detto Antonio Conte tramite il fratello è pura e semplice poesia, diciamo che gli si potrebbe perdonare anche un tradimento pur di vedere le facce dei prescritti tutto l'anno nel vedere Conte nella panchina della Juventus sarebbe una goduria immensa, ma andiamo a sentire che cosa dice il prescritto per eccellenza perché leggo testualmente da FC Inter 1908 il fratello di Conte rifila una frecciatina all'Inter 102 punti, c'è chi legge la storia e chi la fa allora è chiaro che questo è chiarissimo che è una frecciatina all'Inter e a Inzaghi chiarissimo perché c'è proprio tutti lì fuori questo post proprio la domenica in cui l'Inter non vince col Cagliari e non vincendo col Cagliari matematicamente può non raggiungere quell'obiettivo non matematicamente può non raggiungere matematicamente non lo raggiunge ma avete visto il modo di parlare che c'ha gli occhi rossi pieni di lacrime e poi ci dicono a noi che stiamo rosicando ragazzi in un campionato che ormai è stravinto da parte vostra con la squadra migliore che c'è è bastato un post un post con le immagini di Antonio Conte nel record del campionato 2013-2014 102 punti che ricordo c'è poco da festeggiare perché abbiamo pagato quel record con la finale non giocata in casa della Juventus e noi non abbiamo partecipato perché Antonio Conte si è preoccupato di più del record che poi aveva scritto sulla maglia piuttosto che andare a vincere un ipotetico trofeo ma in questo caso ragazzi come ci fa godere vedere che tirano fuori le pomadine già consumate da loro in un campionato pensate che in questi ultimi tre anni la Juventus non ha vinto assolutamente nulla ma il tubettino era schiacciato, era consumato e come ve lo potete spiegare? forse perché l'infiammazione dei nove scudetti consecutivi dura ancora a lungo e non basta uno scudettino ogni tanto per far passare quello che è il bruciore effettivo allora ogni interista si deve sempre munire di uno di questi bei tubetti perché se guardate ragazzi tanti youtuber che ogni tanto fanno qualche sfutto tirano fuori sempre questo pomadina ecco questa pomadina e la maggior parte delle volte torna di nuovo indietro la maggior parte delle volte sono interisti quindi sono già predisposti nascono e già gli danno, gli consegnano il bruciacul secondo le dichiarazioni del padre se il padre dice sono interista allora tocca la pomata per tuo figlio mettigliela da adesso fino a quando non riuscirà a metterla da solo e continuerà la sua carriera caro il mio Luca Mastrangio vabbè l'avete conosciuto, lo conoscete tutti e naturalmente lo stimiamo anche come personaggio un personaggio ormai è diventato famoso per tutti gli attacchi che ha fatto alla Juventus ma poi siamo noi quelli che rosichiamo ricordiamo anche che è uno di quelli componenti della BoboTV che ultimamente da quando è andato via anche a Dani e compagnia bella è stata rimpiazzata con altri personaggi personaggi che hanno 230.000 iscritti, 300.000 che però quando fanno le live li vedono in 40 persone questo è molto molto strano molto molto strano giusto per far capire che questi sono i personaggi che su YouTube quando fanno i video diciamo che sono i capoccia sono quelli più ascoltati allora sono gli influencer che possono anche aggirare un pochettino le notizie no, come in questo caso ci dicono che il fratello di Antonio Conte sta rosicando perché l'Inter sta vincendo lo scudetto anzi ci dice Mastrangelo è proprio Antonio Conte che sta rosicando il sederino solo ai tifosi la Juve, ai tifosi del Milan ma fa bruciare il sederino anche a chi ha lavorato per l'Inter e adesso non ci lavora più e magari si è anche pentito di non lavorarci più e magari gli dispiace anche di non lavorarci più visto che poi andando via dall'Inter è andato a fare un fallimento in Inghilterra quest'anno se fatturano di vacanza vedremo dove andrà il prossimo anno perché è successo una cosa quello che è successo ve l'abbiamo spiegato quindi secondo lui è Antonio Conte che sta c'è il brucio c'è il... Antonio Conte ha fatto queste dichiarazioni perché sta rosicando hai detto al fratello posta pure le mie foto con la maglia con 102 che ho scritto la storia c'è chi la scrive c'è chi invece fa i chiacchieroni un po' come come loro perché sta rosicando effettivamente perché l'Inter sta vincendo il campionato lui vorrebbe essere a posto dell'Inter cioè è tre anni che non c'è più nell'Inter però adesso sta rosicando perché vorrebbe ritornare immediatamente visto che Filippo Inzaghi sta vincendo il campionato allora che dire se non condividere immediatamente questo video perché almeno così ci facciamo due risate perché pensa te loro non riescono a raggiungere un obiettivo e a noi brucia il cu è incredibile ragazzi solo per questo e poi dite ma Peter sei stato un po' duro dire che non ha bisogno del naso rosso per sembrare un pagliaccio allora ditemi se è vero o no ha bisogno del naso rosso per sembrare un pagliaccio basta solo come si esprime ma noi gli vogliamo bene gli mandiamo anche un saluto e gli cantiamo come mai la Champions League la vinci sempre tu perché effettivamente ragazzi loro ci hanno insegnato come si vince la Champions League l'abbiamo visto l'anno scorso nonostante un cammino abbastanza diciamo sempliciotto e anche quest'anno ci hanno dimostrato come con uno dei più scarsi Atletico Madrid che ci sia stato nella storia dell'Atletico Madrid sia uscita agli ottavi di finale con una delle squadre migliori ma noi stiamo rosicando attenzione siamo noi che stiamo rosicando perché loro stanno vincendo la seconda stella con 19 scudetti e noi stiamo rosicando solo perché la seconda stella l'abbiamo messa nel 1978 non mi ricordo perché io non ero neanche nato pensate che sono già nato con due stelle figure sono nato con due stelle c'è gente invece che è di partita aspettando la seconda stella detto questo il video finisce qua è totalmente divertente questo video ma attenzione perché è un minimo di verità ce l'ha il Brucia Cool loro ce l'hanno sempre un motivo c'è se quel tubetto è già stato utilizzato più volte nonostante vincano il campionato può essere un pochettino per la Coppa Italia un pochettino per la Champions League un pochettino per il record dei 102 punti che pensavano di aver già vinto e chissà che magari chissà che magari il Milan non gli faccia svuotare il tubetto nel derby vincendogli magari anche 1 a 0 con un rigore o con un gol l'ha annullato all'Inter per il fuorigioco cosa che non esista sappiamo mentre per il Milan ultimamente il fuorigioco 2-3 mm come la Juve attenzione perché il fotogramma lo scelgono loro chissà che gli possa far svuotare questo tubetto vincendogli proprio il derby e rimandandogli la festa scudetto che ormai sappiamo arriverà a Gravina e Infantino Ceferin già stanno preparando gli addobbi è già tutto pronto ma fagli uno smacco come quello che loro si portano tutto nel derby per festeggiare e poi si devono riportare tutto a casa non sarebbe male lì via di pomata il video finisce qua non ti rimane che condividere questo contenuto commentare con il tuo pensiero e mi raccomando nessuna iscrizione per questo video solo e esclusivamente condivisione io vi saluto ci vediamo al prossimo contenuto e ciao a io